Presenze turistiche per Natale e Capodanno nel VCO in montagna c'è ottimismo, in particolare a Macugnaga in Valle Vigezzo. Per le montagne ossolane da Federalberghi riferiscono al momento prenotazioni per il 60-70% dei posti disponibili, ma ovviamente tutto dipenderà dall'evoluzione della situazione Covid, precisa la direttrice Anna Maria Di Sessa. Gli operatori sono comunque fiduciosi, le prospettive, salvo imprevisti legate alla pandemia, sono di superare i numeri già buoni dello scorso anno e di sfiorare il livello di presenze del 2019 per queste feste. Per quanto riguarda il lago, Stresa, che conta qualche struttura aperta grazie agli eventi natalizi, aveva avuto una buona risposta di prenotazioni alberghier nel corso della prima settimana. Poi la situazione si è un po' affievolita, riferisce il presidente di Federalberghi, VCO Gian Maria Vincenzi. Meglio il settore della ristorazione. Resta la grande voglia e il bisogno di lavorare, aggiunge lo stesso. Purtroppo, dopo il prolungamento dello stato di emergenza fino a fine marzo delle scorse ore, l'arrivo di qualche gruppo è ora in forse. Hanno contribuito a creare confusione anche le ultime disposizioni rispetto all'obbligo di tampone per i vaccinati che entrano in Italia dall'estero, anche dall'Unione Europea. Come sempre, gli operatori si sono prontamente adeguati, seppure tutto questo comporti ulteriori incombenze e si sono subito attivati per informare in modo corretto la clientela ferma di sessa. Certo, sul comparto e sugli arrivi pesano le notizie e le disposizioni, sempre riferite all'ultimo momento, che creano problemi di comunicazione con il cliente e la mancanza di certezze anche nel breve medio termine. Intanto, Federalberghi Nazionale parla di un Natale non come gli altri, ma di un Natale dei Green Pass. Spiega che nonostante le difficoltà e i timori della quarta ondata, forti della copertura della terza dose, gli italiani riusciranno comunque a darsi una destinazione, restando soprattutto nei confini del proprio paese. conferma la scelta della montagna e di località il più possibile vicine alla propria città di residenza.